Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi siamo qua in un cantiere amarese, vi faccio vedere l'applicazione del Tadelac. Ragazzi, allora, stiamo facendo la seconda mano di archi Tadelac, colore di cartella 004, materiale che io personalmente amo tantissimo. Qua sotto abbiamo dato una mano di archifondo in tinta, vi è andata la prima mano di Tadelac, se vedete la parete è ancora bagnata, adesso andiamo ad applicarvi la seconda mano. Il consiglio che vi do io, sottofatti questo materiale, è lavorare il bagnato e il bagnato, per evitare le indiglie. Ok? Quindi, vedete, sotto il materiale è ancora bagnato, si vederà il colore, e adesso andiamo a fare la seconda mano, bagnato su bagnato, chiudendo il foro. Proprio per evitare lo discorso di tutto. Allora, ragazzi, vi venite qui a trovare, l'odificio Novatore Varese, vi aspetto anche in Accademia, l'Accademia è una colora Academy, e niente, un saluto! Ciao!